La Lama Varpale è agile e affinata e sempre pronta a servire. Non sono tornata in cerca di sangue. Davvero? Peccato perché qualcuno è in cerca di te. La Lama Varpale è iniziata. 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 La Lama Varpale. La Lama Varpale è iniziata. La Lama Varpale è iniziata. La Lama Varpale è iniziata.